La cosa più bella è litigare in inglese. Tipo, come lo mandi a quel paese? Eh, ma in siciliano, però in inglese. Come lo mandi in siciliano e in inglese? You cannot understand who I am. I will send you in the other place. Catti! Non lo so. Perché? Non so come mai, ma quando parlo in inglese, spesso mi esce il siciliano.